Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo un'altra anticipazione per il prossimo campionato. Questa è la seconda maglia del Manchester United in edizione FAN. Questa è la seconda maglia del Manchester United. Cosa ne pensate? La maglia non mi dispiace, anche se devo dire la verità, il fascione centrale con lo sponsor in generale a me non piace. Il costo lo vedete qui sopra, su questo non si discute, è molto basso, tra l'altro include anche le spese di spedizione. Qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, quindi il costo di prima diventa ancora più basso. Prima di lasciarvi la parte finale, mi raccomando, iscrivetevi al canale, spingete quel pulsante. A voi non costa nulla, ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti!